Posso aiutarti? Buon viaggio! Divertiti! Addio! Molto piacere! Fa' attenzione! Ti serve aiuto? Ci vediamo! 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 Non ho energia sufficiente, non ho abbastanza energia, ma non sono ancora pronta. Non ho energia sufficiente, non posso neppure farla, non ho abbastanza energia. Quest'abilità non l'è ancora pronta. Non sono ancora pronta. Spha, S shelter. Non sono ancora pronta. Questa abilità non è 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 pronta. Questa abilità non è pronta. Questa abilità non è ancora 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 pronta. Come va? Tieni i piedi, tieni i piedi ben soldi per terra. Cosa posso fare? Questa abilità non è ancora pronta. Questa abilità non è ancora pronta.